Vogliamo raccontarvi una storia, un importante capitolo della sana e genuina alimentazione italiana. Nel 1935 il nonno Attilio Lenti decide di integrare il suo piccolo laboratorio artigianale con i procedimenti tecnici più avanzati e acquisisce dalla Germania il brevetto Beisser che gli consente di applicare un nuovissimo sistema per la salagione endoarteriosa, dando così vita al primo impianto torinese per la produzione dei prosciutti cotti. Il piacere della buona tavola, pur molto legato alla tradizione, comincia con Lenti ad essere sensibile alle innovazioni e alla ricerca tecnologica. È proprio allora che il marchio Lenti inizia ad alietare tutti gli estimatori della buona salumeria nazionale, un'azienda che fonda le sue origini in un passato lontano e che negli anni 60, con l'inaugurazione del nuovo stabilimento di Santena tra tecnologie ed avanguardia e rispetto della tradizione, si lancia verso il traguardo del nuovo millennio. Un'impresa internazionale per vocazione, ma piemontese nello spirito. Lo si vede bene anche oggi dal rigore, dall'ostinata ricerca del lavoro ben fatto, dal riservo mantenuto riguardo ai propri segreti di lavorazione. Tutto nei prodotti Lenti parla al consumatore di tre valori fondamentali, la qualità, la sicurezza e la genuinità. Impegni riconosciuti anche da istituzioni indipendenti ed espressi da importanti marchi visibili su ogni confezione. Ma non è finita qui. Lenti regala al suo consumatore la garanzia della tracciabilità di filiera e un prodotto certificato. Tutti i prosciutti d'arrosti Lenti sono assolutamente privi di fonti di glutine, dunque adatti al consumo dei soggetti celiaci e non solo. I prosciutti Lenti della linea sana alimentazione sono privi di lattosio e caseinati, prodotti con ingredienti rigorosamente non OGM, come mais, soie e derivati, e con contenuto di sale inferiore o uguale all'1,84%. Da sempre Lenti è molto attenta al rapporto con l'acquirente e con la sua forza vendita per fornire ai propri consumatori un prodotto sano, tracciato dalla carne al supermercato e qualitativamente superiore.